Immagino una città più coesa innanzitutto come comunità. Sono parole del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi a nove anni dal terremoto. Il primo cittadino al suo primo anniversario con la fascia tricolore del capoluogo vede una città che si sta rialzando, una comunità che comunque di fronte al sisma del 6 aprile ha saputo reagire. Ma l'immagino intanto con una comunità più coesa che ha saputo fare tesoro delle sofferenze, dei dolori e ha trovato intorno al simbolo nero-verde, che è la bandiera di tutti noi, delle ragioni di unità. Perché c'è bisogno dello sforzo di ognuno, di noi, di ogni cittadino per continuare a cambiare questa città che comunque negli anni ha vissuto dei progressi importanti, dei progressi notevoli, tanto più se oggi lo confrontiamo con altre realtà molto minori dal punto di vista della complessità naturalmente. Vediamo che questa è una città intanto in cui la ricostruzione privata, fatto dei passi da gigante, il centro storico, il nostro asse centrale, inizia a riprendere la sua fisionomia ante sisma, si riaprono delle attività commerciali, c'è la ricostruzione pubblica che stenta, ma comunque alcune cose sono state fatte, altre sono da fare. Abbiamo riaperto Collemaggio, che è un simbolo importante per tutti noi. È una città che sta conoscendo la sperimentazione del 5G, che verrà la città accablata con la fibra ottica, c'è questo grosso progetto sulla mobilità sostenibile e sulla mobilità elettrica, bisogna lavorare molto sulla qualità della città, sulla qualità della montagna, sul rilancio turistico, sul sostegno a questo fervore culturale che c'è. Però io credo che sia una città che ha reagito.